In questo modo, incrocio le dita e adesso spingo le mani, stendo i gomiti, adesso lavoriamo sia con la cassa toracica che con le spalle insieme, quindi immagini un muro indietro che ogni volta devo toccare il muro con le mani, inspiro, spingo le mani indietro, apro la cassa toracica, immagini un pugno mezzo le scapole che ti spinge, diafragma su, apro la cassa toracica, espirando chiudo, in contrario un pugno che ti manda la cassa toracica indietro, le braccia lunghissime, spingo, immagini con le mani spinge qualcosa, spinge, di nuovo, inspiro, bravissimo, espiro, inspiro, apro, espiro, spingo, inspiro, apro, apro, apro più che posso, espiro, spingo, chiudo, inspiro, apro le mani più indietro che posso, espiro, chiudo, inspiro, apro e resto le mani più indietro che posso, diafragma su verso il soffitto, restiamoci, quattro, molto bene, tre, due, uno, e scarico, spingo, le braccia lunghissime, metto verso il petto, grande goba, spingo, spingo le mani, ok, e prendiamo la cintura, ok, larghezza di spalle, sempre la cintura, adesso cerchiamo di non flettere i gomiti, lo stesso movimento, cerchiamo di toccare con le mani indietro un muro immaginario, adesso le mani più larghe, quindi posso permettere di spingere leggermente di più, apro la calza toracea, pugno in mezzo alle scapole, diafragma verso il soffitto, bravissima, espiro, chiudo, spingo, grande goba indietro, le braccia lunghissime, metto verso il petto, di nuovo, inspiro, apro, espiro, chiudo, spingo, 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 allungo, sento la schiena, allungo, inspiro, apro, espiro, spingo, molto bene, bravissima, inspiro, apro, espiro, spingo, metto verso il petto, ok, adesso la calza toracea resta sempre chiusa, quindi spingo, 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 metto verso il petto, sguardo giù, stendo le braccia, i gomiti restano tese, lavoriamo adesso solo con le spalle, quindi le mani indietro, immagino che deve toccare il muro indietro, bravissima, espiro, giù, inspiro, spingo, spingo, devo toccare il muro, bravissima, espiro giù, la calza toracea chiusa, solo le spalle, inspiro, espiro, bravissima, inspiro, molto bene, espiro, inspiro, mento verso il petto, sguardo giù, espiro, inspiro, restiamo, spingo, 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 spingo le mani più indietro, mento verso il petto, bravissima, cinque, quattro, respiro, tre, due, uno, torniamo, ok, molto bene, le braccia su, le mani su, e comincio a spingere, pugno sinistro giù per terra, fletto, gomito destro, scivolo attraverso la cintura, pugno sinistro va giù verso il pavimento, cerchiamo di tenere le mani in una linea con la colonna vertebrale, tiro, mano sinistro giù verso il pavimento, e allo stesso tempo con mano sinistro, tiro, mano destro, gomito destro giù, con la testa spingo, gomito destro indietro, restoci, quattro, tre, due, uno, alterniamo, stendo, adesso refletto, gomito sinistro, tiro, mano destro giù, tiro, mano e gomito sinistro giù, tiro, 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 come voglio toccare il pavimento con mano destro, con la testa spingo, gomito sinistro indietro, sentiamo la spalla, cerchiamo di rilassare, resto, cinque, quattro, respiro, tre, due, uno, alterniamo ogni volta tutto il movimento indietro la testa, indietro la testa, inspiro su, espiro, tiro, mano giù, inspiro su, espiro, tiro giù, inspiro su, espiro, tiro giù, inspiro, 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 ancora una volta, espiro, ok, bravissima.